Previsioni per giovedì 8 giugno. Cielo sereno poco nuvoloso con graduale aumento delle nubi cumuliformi sulle zone collinarie e montane. Nel pomeriggio temporali sparsi anche di forte intensità in spostamento dalle zone interne verso la costa, fenomeni in esaurimento in serata. Temperature minime stazionarie, massime lieve aumento, venti di brezza leggera o tesa, mare quasi calmo al mattino poco mosso nel pomeriggio.